Travolti da automobili e uccisi mentre attraversavano la strada con i genitori sulle strisce. La cronaca recente parla di tre bambini di 3, 6 e 8 anni uccisi a Ravenna, Jesolo e Rubiera del Reggiano. E poi ci sono i feriti, uno a Milano e tre a Carpi dove è rimasta coinvolta anche la madre, incinta di 7 mesi. Alcuni degli automobilisti hanno cercato di fuggire, altri sono rimasti scioccati o hanno subito prestato aiuto. Ma questo cambia poco sull'esito degli incidenti dovuti al traffico, argomento poco affrontato ma che ha numeri importanti. Secondo i dati Istat, nel 2013 ci sono stati oltre 182.000 incidenti con lesioni a persone, con 3.400 morti e 259.500 feriti. I dati non parlano dei costi derivati dagli incidenti sia per il Servizio Sanitario Nazionale che per il tempo necessario a ripristinare la circolazione ordinaria. L'Istat ci dice però che i numeri sono in calo rispetto all'anno precedente, meno 6,9% i morti e meno 2% i feriti, con però un'eccezione più 2,5% di ciclisti morti per strada e tutti uccisi da automobilisti.